Non sappiamo la verità, faremo causa all'ospedale Cardarelli. E la voce disperata e carica di rabbia di una giovane donna di Torre del Greco, la madre, 58 anni, è morta nei giorni scorsi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere stata quattro giorni su una barella in pronto soccorso. TV City raccoglie la sua videodenuncia. Chiedo la cortesia di far diventare virale questo video. Mia madre l'ho fatta lunga, perché è parecchio lunga, meglio che lo sappiate, soprattutto a quelli del Cardarelli, perché parlo dell'ospedale Cardarelli. Mia madre è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli per una pleurite e sappiamo che è una cosa grave, però curabile. E' andata a pronto soccorso e i suoi valori erano ancora stabili. E' stata quattro giorni a pronto soccorso mia mamma, su una barrella abbandonata. Per quattro giorni è stata su questa barrella, con antibiotici. E ci riferivano che andava tutto bene, dovevamo solo aspettare il reparto delle analisi. Ho aspettato che mia mamma venisse trasferita nel reparto, infatti così è stato, mia mamma è stata trasferita nel reparto medicina. E va bene così. Come è stata trasferita nel reparto di medicina, mia mamma è peggiorata. È peggiorata? Ho cercato di avere spiegazioni dai medici di come procedevano le cose, senza avere nessun concreto risultato. Mi viene fatta una chiamata, che mia mamma si è aggravata. A mezzanotte e 25 ho la telefonata della dottoressa. La dottoressa ci ha spiegato anche lei che la situazione là è tragica. Che mia mamma purtroppo è andata in arresto cardiaco e non ce l'ha fatta. Non sappiamo la verità, non sappiamo mia mamma come è morta. Hanno distrutto me e hanno distrutto la mia famiglia. Io non so veramente le cose come sono andate, però io andrò fino in fondo e farò causa all'ospedale.